Buongiorno, sono l'architetto Andrea Cardinale e stiamo registrando una presentazione alla compilazione della segnalazione certificata di agibilità presso il Dipartimento Programmazione di attuazione urbanistica in via del turismo. Siamo in periodo Covid e quindi sto indestando la mascherina che toglierò adesso per un problema legato poi all'audio e quindi adesso posso toglierla perché sono a distanza di sicurezza rispetto ai colleghi che stanno effettuando la registrazione. Facciamo un escursus quindi rispetto all'agibilità e alla normativa che l'ha regolamentata nell'arco degli anni. L'obbligo di produzione del certificato di abitabilità risale al reggio decreto 1265 del 34 che fa riferimento poi al testo unico delle sanitarie modificato poi con il decreto del Presidente della Repubblica 425 del 94 e infine con il decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 entrato in vigore il 30 giugno del 2003. Il reggio decreto del 34 all'articolo 221 del comma 1 riorganizzò l'argomento dell'abitabilità delle verifiche in materia di salubrità delle abitazioni già previgenti. Gli edifici o parti di essi non possono essere abitati senza autorizzazione del potestà il quale la concede quando previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità. Prima di esso infatti c'era l'articolo 39 di una legge precedente del 1888, la 5849, che disponeva le case di nuova costruzione o in parte rifatte non possono essere abitate se non dopo l'autorizzazione del Sindaco determinando altresì le modalità di rilascio del provvedimento. Nel 1932, con la delibera 73-95 del Comune di Roma, viene pubblicato un regolamento di igiene che dall'articolo 29 e seguenti detta le regole igienico-sanitarie per l'utilizzo degli immobili di varia destinazione d'uso. Questa formulazione fu rivista con il reggio decreto del 34, quello con il quale abbiamo iniziato la presentazione, è resa obbligatoria con l'approvazione della legge 1150 del 42. Il termine abitabilità era utilizzato in relazione a immobili ad uso abitativo, mentre il termine agibilità era usato in riferimento ad immobili non residenziali. Questa differenza terminologica è continuata anche successivamente, evidenziando però un'altra differenza tra i vocaboli. L'abitabilità era collegata ai requisiti dell'immobile rispetto alle specifiche destinazioni d'uso, mentre l'agibilità era legata alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell'immobile. Con il DPR 136 del 58, l'obbligo di munirsi del certificato di agibilità venne esteso inoltre a tutti gli edifici non destinati a civile abitazione, ma bensì genericamente all'occupazione delle persone anche per attività diverse a quella quindi residenziale. Un mutamento sostanziale è fondamentale, si è avuto con il DPR 425 del 94 che in conformità alle mutate esigenze sociali ha variato sostanzialmente la portata dei certificati di abitabilità ed agibilità, imprimendo una svolta tendente ad avvalorare tale certificazione anche sotto il profilo edificatorio e non esclusivamente sanitario, quindi anche relativamente alla legittimità edilizia. Infine con l'articolo 24 del DPR 380 del 2001, entrato in vigore il primo luglio del 2003, che sarebbe poi il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Viene abrogato il DPR 425 del 94 e si ha una nuova chiara valenza di certificato di agibilità sotto il profilo della semplificazione delle procedure, viene quindi eliminato il dualismo certificato di abitabilità e certificato di agibilità, spesso fonte di confusione terminologica. Non c'è più alcuna differenza perché il legislatore ha eliminato il duplice riferimento definendolo con l'unico termine agibilità. Quindi il certificato di destinazione d'uso degli edifici prende il nome di certificato di agibilità e viene disciplinato dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico, oggi modificati con il decreto legislativo 222 del 2016. Andando poi nello specifico, anche in riferimento alla normativa, ma soprattutto all'aspetto giuridico, il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione. I giudici amministrativi scrivono che il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità edilizia ed abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente e specifica che le due espressioni, abitabilità ed agibilità edilizia, seppur diversamente utilizzate erano di fatto omogenee e non richiedevano quindi procedimenti amministrativi diversi. A seguito della depenalizzazione intervenuta con l'articolo 70 del decreto legislativo 507 del 99, la violazione all'obbligo di certificato di agibilità prima e della presentazione della segnalazione certificata entro i 15 giorni dal fine lavori, oggi, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con diversi scaglioni di importo, dipendentemente dal ritardo di presentazione della segnalazione stessa. La non presentazione della segnalazione certificata oggi di agibilità si tratta di un illecito proprio che può essere commesso sia dal proprietario dell'immobile o da quei soggetti che l'interpretazione giurisprudenziale ha parificato al proprietario. In attuazione inoltre della legge 124 del 2015 il decreto legislativo 222 del 2016 all'articolo 3 lettera I viene abrogato l'articolo 25 del DPR 380 ovvero il certificato di abilabilità rilasciato dal competente ufficio comunale assume la forma di segnalazione certificata di agibilità che in seguito chiameremo SCAG per non ripetere più volte la segnalazione certificata di agibilità. Mi corre l'obbligo a ricordare che la guida alla compilazione della segnalazione certificata di agibilità a seguito di numerosi incontri con gli ordini e collegi tecnici quindi è stata condivisa con gli stessi anche in attuazione soprattutto in attuazione della delibera di giunta 146 del 2014.